Ciao a tutti amici, un saluto da Albert Macri, mi nome è Centro, vantame del PIE e oggi vi faccio vedere come creare Asan Salihamidzic, il brazzo. Allora, nome è Asan, con il nome è Salihamidzic, il nome sono diviso Salihamidzic, Bosnia Castecofina, Juventus, centrocampista destro, esterno destro, maglia 7, vedete quello che volete voi, piede destro, è nato il primo gennaio del 1997, andiamo all'aspetto, è alto 1,76 x 71 kg, magro, grande branzone, carna gioca, seconda, capelli, stile lunghezza, andiamo in lunghi, credo no, medi, medi scusate, prendiamo ricci bagnati, media, colore i capelli marrone, stile barba, barba corta e marrone, quindi non è barba rossa, sopracciglia, così, allargata e spessa, occhi, taglio degli occhi normale, il taglio occhi 1 normale, il taglio occhi 2 un po' aperta e stretta, colore occhi, orecchie, posizione orecchio un po' in fuori, tipo di orecchio, lobo sì, naso, posizione naso largo e largo, tipo di naso un po' ricurvo a sinistra, profilo naso un po' curvo, narici alte e allargate, il taglio di narice strette, guancia, posizione zigomi alti e sporgenti, tipo di guancia piatte, bocca, posizione bocca un po' larga, labbra, sottile e sottile, stile labbra un po' in su, mascella, bassa e stretta e un po' definita, mento, a punta e un po' lungo, questo per quanto riguarda l'aspetto di asam brazzo, Salihamidic, qui vedete come lo avete voi, andiamo alle categorie, attacco, cross 85, finalizzazione 75, testa 70, corti 85, al volo 80, piedevole 4, difesa, marcatura 70, contrasto 60, scivolata 65, abilità, dribbling 80, effetto 75, punizione 75, lancio lungo 80, controllo palo 80, potenza, potenza tiro 80, elevazione 65, resistenza 85, forza 70, tiro da distanza 80, movimento, gestione 80, scatto 85, agilità 80, riflesso 80, equilibrio 85, mentalità, crescività 80, intercettazione 65, posizione in attacco 80, visione 80, rigori 80, portiere, tuffo 20, 10, 10, 10, 10. Certo è un'influenza. Quindi grazie a tutti amici, un saluto dall'Archimato di 1999, 999 Deppi, sui amici arriva anche Hasan Salihavidic, vi ricordo sempre lasciate un bel like, commentate, iscrivetevi e a presto con nuove leggende, Robert Matri 1989 Deppi, Hasan Salihavidic, brazo.